Nella vita arriva un momento in cui ti senti perso, all'improvviso tutto quello che ti sembrava di toccare e di vedere, sparisce, viene cancellato con un semplice soffio di vento e le tue sicurezze cominciano a vacillare, fino a trasformarsi in dubbi. Non sei più chi sei, che cosa farai nella vita, che cosa sei stato e che cosa diventerai. Un pennarello nero cancella con una riga il tuo passato. Ti senti perso e non sai come reagire. Bene, è qui che devi riprendere in mano la tua vita, la valigia della tua vita, la tua anima ormai vuota. Riempirla con dei nuovi ricordi, i ricordi che fanno parte del tuo futuro e non quelli del tuo passato. Con calma dovrai scegliere che cosa mettere dentro e soprattutto che cosa lasciare fuori. Piano, piano, col tempo ne sentirai il peso. Il tempo cambia tutto, è il tempo. È il tempo che scandisce l'esistenza. È il tempo a decidere la tua vita. più forte dell'esistenza. Più forte dell'acqua, più forte dell'acqua, più forte del fuoco, della terra, del vento. Il tempo. Il tempo. Inarrestabile. Colui che scandisce i tuoi giorni, i tuoi attimi. Il tempo ti fa perdere. Ma può anche farti ritrovare. Come un fiume in piena ti può travolgere, ti può soffocare con i ricordi. Un'omba di pensieri che non vogliono smettere di pulsare nella mente come un allarme. è fastidioso. Però sei tu, lo scrittore della tua vita. Tue sono le mani che imprigioneranno la penna che scriverà la tua storia. Le bianche pagine ti verranno consegnate un po' per volta, ad ogni risveglio del sole. Non potrai numerarle, e quindi la tua storia potrebbe rimanere incompiuta. Sei sicuro delle prime parole che scriverai? Ma non potrai mai sapere quali saranno le tue ultime.